Salve a tutti e a tutte e benvenuti a questo episodio che inaugura la nuova stagione dei dialoghi di Pandora Rivista. Nel 2022, come sapete, abbiamo avuto più di 40 incontri di questo formato che prevede un ospite diverso ogni volta con una conversazione che può partire da un libro o da una riflessione col tema appunto con interlocutori significativi per riflettere sulle grandi trasformazioni e grandi cambiamenti del presente. Vi ringraziamo appunto per quelli che ci hanno seguito nella stagione precedente e siamo molto lieti se qualcuno deciderà di seguirci appunto in questo nuovo momento e siamo molto contenti di inaugurare appunto questa nuova stagione con Cecilia Sala, un ospite che molti di voi conosceranno. Cecilia Sala è una giornalista e cura per Cora Media i podcast Stories, una storia dal mondo ogni giorno e anche una giornalista che scrive per la carta stampata, scrive per il foglio e ha scritto anche per numerose altre testate, ha collaborato anche con la televisione quindi diciamo è una figura che ha anche una grande esperienza e con cui cercheremo appunto di riflettere appunto su le modalità appunto di raccontare il mondo, di raccontare la politica internazionale e anche sui formati, sui linguaggi dell'informazione e del giornalismo. Quindi io vi ringrazio in anticipo per l'attenzione che dedicherete a questa nuova stagione e possiamo iniziare dopo la sigla. Ecco innanzitutto grazie molte Cecilia appunto di essere qui con noi oggi e di aver accettato il nostro invito. Ecco tu appunto anche grazie al lavoro che fai diciamo al podcast che curi appunto che comporta anche un notevole impegno appunto un podcast giornaliero, una storia dal mondo ogni giorno quindi c'è anche un notevole lavoro appunto di scelta appunto dei temi, degli argomenti, individuare appunto gli episodi, le vicende, le storie, le vicende biografiche da analizzare appunto proprio per raccontare il mondo che cambia, la politica internazionale. Quindi io per prima cosa vorrei chiederti in un qualche modo qual è il processo, le modalità che portano appunto a scegliere gli argomenti, tu personalmente e anche diciamo il team che hai intorno, cosa porta, cosa è una storia e qual è il processo che porta a individuarla? È la parte più complessa della realizzazione del podcast, cioè quella della scelta della storia è più faticosa e richiede più tempo della scrittura o della registrazione o del montaggio o della ricerca dei contributi audio. È un podcast che cerca nella quotidianità di mischiare grandi eventi che non si possono tacere e storie molto piccole che difficilmente trovi sulla stampa, sull'informazione generalista, che magari non sono l'attualità, la grande notizia di attualità di quella fase, ma che a noi interessano, le troviamo importanti, le troviamo delle appunto che abbiano le caratteristiche della storia che è ciò che ci piace di più raccontare. Una storia a cui sono affezionata recente è la storia di un viaggio di un ragazzo afgano in fuga, un viaggio che sembra tratto da un libro di avventure di un'altra epoca, lui arriva in Brasile e dal Brasile attraversa la giungla, i fiumi, il muro tra gli Stati Uniti e il Messico. Il confine innevato canadese da persona che non conosce, è una storia piccola, è una storia minore, non è la storia del giorno, non c'era su nessun altro giornale, nessun telegiornale ovviamente, ma a livello di storia singola era potentissima, ricca di dettagli su quel percorso, ecco secondo me una storia è un qualcosa che ha un inizio e una fine, ha un arco narrativo, oltre ad inserirsi in un tema politico, geopolitico, internazionale più rilevante. Quella storia aveva tutte queste caratteristiche, non avrebbe mai fatto i titoli dei giornali, ma è una delle puntate recenti a cui sono più affezionata appunto. Ci sono storie piccole che però raccontano la condizione, diciamo, raccontano il motore che muove chi fugge dall'Afghanistan oggi e che ci riguarda molto da vicino, ci ha riguardato con la strage, la tragedia di Cutro sulle nostre coste. Le storie che funzionano sono storie apparentemente minuscole e potenzialmente universali, diciamo. Poi ovviamente ci sono le giornate in cui la notizia del giorno si impone, quindi se Biden annuncia di volersi ricandidare, quel giorno la notizia Biden inevitabilmente. Ecco, nella modalità appunto specifica del podcast, che è una modalità che in parte riprende appunto linguaggi noti, in parte li rielabora, un elemento molto importante di cui si riflette sempre appunto è, ma forse che non è nemmeno un elemento esclusivo di questa modalità, però in questa ha una rilevanza particolarmente significativa, è quello del rapporto con il pubblico, no? Cioè l'elemento anche della voce aiuta, diciamo, alla costruzione di un rapporto appunto con una comunità di ascoltatori, di persone che seguono appunto questo percorso. Ecco, tu percepisci, e se sì, in che modo appunto questo elemento e quali sono le forme di rapporto che tu hai con il tuo pubblico? Ci sono dei riscontri e ti arrivano in qualche modo anche degli stimoli? Allora, sono molto d'accordo con quello che stavi dicendo, cioè si crea con il podcast un'intimità con l'ascoltatore che è diversa rispetto ad altri mezzi. La voce è il modo in cui viene utilizzata nei podcast che è molto diverso da il GR, diciamo, il GR Parlamento, ecco, come tono, come approccio. Quindi utilizzare la voce in un modo intimo crea un rapporto intimo con chi ti ascolta, che è una cosa per cui chi ti ascolta si sente anche, diciamo, questa intimità a due facce, nel senso che da una parte è bellissima e appunto crea una comunità, crea un'abitudine, crea una consuetudine. Dall'altra parte è un'intimità per cui c'è un rapporto quasi alla pari con... ci sono moltissimi consigli di temi da trattare, ci sono moltissimi ascoltatori che sono italiani all'estero. Mi ricordo uno cattivissimo che mi corresse tutta una serie di pronunce in norvegese, che io non parlo, non mastico, non pratico, con gentilezza ovviamente, però ecco c'è un rapporto fruttuoso. Io soprattutto rispetto a paesi che non sono quelli di cui mi occupo principalmente, è un podcast che rispetto ad altri possibili podcast esteri è sbilanciato a livello di quantità sulle aree di crisi, perché sono ciò che a me interessa, ciò che io seguo, ciò di cui scrivo anche per il giornale, per il foglio, sono i luoghi in cui vado da inviata, non vado a seguire le lezioni francesi come tipica trasferta di stories. Quindi sono molto contenta se rispetto alla Norvegia c'è un ascoltatore, un italiano che vive lì da dieci anni che ha voglia di suggerirmi un taglio particolare per raccontare un evento e devo dire che li sfrutto molto sulle storie che non vengono dai paesi che frequento più abitualmente. Ecco parlavamo appunto di questo formato appunto incentrato appunto su questo termine proprio storie, no? Quindi la scelta dell'episodio, la scelta appunto della vicenda, dell'evento e al tempo stesso in un qualche modo seguire la politica internazionale anche un elemento che è legato diciamo al familiarizzare il pubblico, gli ascoltatori con dei contesti che spesso sono poco conosciuti, che hanno a che fare diciamo con dei sistemi istituzionali che magari non seguiamo giorno per giorno e soprattutto degli eventi che magari al di là dell'emergenza, al di là della singola storia, poi hanno una loro evoluzione nel tempo, no? Ecco come in un qualche modo si conciliano questi due elementi? Cioè come si concilia da un lato l'elemento magari anche del contesto, dello studio, del dare delle informazioni su quella che è l'evoluzione, la situazione del paese e poi la storia, la vicenda specifica? Innanzitutto aiuta il fatto di essere alla 300 e passa puntata, no? Quindi tutta una serie, perché è verissimo quello che dicevi, all'inizio sentivo molto di più questo peso, cioè come fai ad andare direttamente a una storia specifica se chi ti ascolta non è detto che conoscerà il contesto? Certo se stiamo parlando di Trump che viene arrestato, ok, è facile, se stiamo parlando del Sudan, raccontare una storia molto specifica sul Sudan, a un pubblico che, diciamo, chi fruisce dell'informazione in Italia, che non per forza conosce tutte le tappe della storia recente del Sudan, che è un paese molto poco trattato da noi, diciamo ci sono varie formule. All'inizio era più complesso perché non c'era, non avevamo già seminato alla più che trecentesima, molto più che trecentesima puntata, c'è tutto un percorso che è già stato fatto, quindi alcune cose si possono dare per scontate. La prima storia che ho fatto dal Sudan è una storia che per la prima parte del podcast, fino a che non c'è proprio uno stacco, noi li chiamiamo così, tra chi fa stories, tra me e il montatore, di sonorizzazione, per cui c'è un evento che tu ascolti in audio, un audio sul campo, da cui poi parte, dopo la singola storia, una ricostruzione di quelli che sono stati gli ultimi avvenimenti in Sudan. A volte ci sono dei personaggi che sono stati protagonisti di varie fasi, il generale admitì, che ti permettono di raccontare la storia di un protagonista e allo stesso tempo la storia di un paese o di un contesto. È un equilibrio importante da trovare, così come su alcune storie, soprattutto diciamo in cui magari di quelle che ti dicevo non essere le notizie ovvie Biden che si ricandida, è la storia del giorno per tutti. Quelle che si è andato un po' a cercarti e che sono meno note, ci piace tornarci sopra e raccontare come sono andate a finire, quindi costruire, ma i rimandi ci sono a prescindere, anche se non si rimane sulla stessa storia. Ormai più si va avanti con stories, più mi capita nelle puntate di dire, come vi ricordate, se avete sentito l'episodio e si riesce poi a raccontare delle storie molto particolari, più particolari di quelle che riuscirei a raccontare sul giornale dove ricomincio ogni volta da capo, non puoi dare per scontato, proprio perché non hai quel rapporto identico con il lettore. I lettori che leggono i giornali leggono, certo, spesso alcune firme a cui sono affezionati, ma ne leggono tante altre, ci sono molti articoli, se ne scelgono una volta la notizia e la politica interna e quindi i pezzi di esteri si saltano e via così. Gli ascoltatori di stories che conosco con formule molto diverse, chi la mattina, chi la sera, chi mentre passa l'aspirapolvere, chi mentre va a lavoro, chi tutti insieme il weekend, ma col podcast si crea abbastanza una comunità che non si è persa troppe puntate, puoi andare anche molto in là, puoi spingerti molto in profondità in alcuni discorsi. No, infatti questo elemento che sottolinei è molto interessante e penso che sia una cosa che si noti anche chi ascolta appunto questo elemento dei rimandi, forse vi ricordate, ne abbiamo parlato alla puntata precedente e che è una cosa che può rispondere anche un po' a quella sindrome che si crea un po', che sembra quasi che si accende il riflettore sulla situazione internazionale quando c'è la crisi e poi quando si spegne sembra che quel contesto, quel paese scompagna. E poi non capiamo mai le altre crisi, ci sembrano tutte incomprensibili e improvvise perché se non... E sconnesse tra di loro, cioè come se fossero tutte delle cose completamente irrenate. Ecco, puoi farci qualche esempio diciamo di qualcuna di queste storie su cui magari tu sei tornata a distanza di tempo e che hanno dato proprio il senso di un'evoluzione, no? Di qualcosa che tu avevi visto in un certo momento, poi hai mostrato come è andata a finire, hanno stato come si sono evolute le cose nel tempo? Allora, è successo sicuramente con una storia ucraina, c'è una ragazza che io ho conosciuto in una trasferta di gennaio 2022, prima che cominciasse la guerra, che ho rincontrato nella puntata dell'anniversario del primo anno di guerra. È una ragazza che mi diceva quando la maggior parte di noi pensavano che comunque l'invasione fosse l'ipotesi meno probabile, cioè molti di noi fino al giorno in cui i carri armati russi non hanno varcato i confini ucraini credevano che tutto sommato fosse troppo irrazionale dal punto di vista di Putin, non che Putin non fosse capace di scelte tanto violente, ma che fosse una scelta troppo irrazionale per lui, per la sua leadership, per la Russia e che non sarebbe avvenuta. Caterina, che io incontro a gennaio a Kiev, è assolutamente certa che la guerra ci sarà ed è pronta a combatterla. Lei è una ragazza, quindi sarebbe potuta andare in Polonia, in Ungheria, in Italia, in Francia, in Spagna, avrebbe potuto avarcare i confini. È una ragazza che tra l'altro ha fatto la modella, ha vissuto tanto all'estero, ha girato molto, parla altre lingue, avrebbe anche avuto meno difficoltà di altri ucraini ad ambientarsi in un paese europeo. È una ragazza che è stata protagonista di una delle ultime rivoluzioni, forse l'ultima rivoluzione in Europa, cioè Roma e Dan nel 2014, il momento in cui l'Ucraina cambia la sua linea politica e la sua direzione e che dal suo punto di vista è il momento storico più importante della storia recente del suo paese e che viene punito a otto anni di distanza con questa guerra. Però io la incontro la prima volta in un'atmosfera per cui moltissimi, la Casa Bianca, il Pentagono, il Cremlino, ma anche tanti ucraini non avrebbero mai previsto che la resistenza ucraina portasse al fatto che i Reussi a Kiev non ci avrebbero mai messo piede, addirittura che ci sarebbero poi state due controffensive mesi più tardi. Quindi rincontrare quella voce con tutto quello che è successo in quell'anno con il legame emotivo che si è creato anche con questa ragazza perché l'intimità del podcast la crei sia con la voce diciamo dell'host quando si registrano le puntate da Roma ma si crea anche con i personaggi sul campo quando li si incontra. È successo qualcosa di simile anche con delle puntate iraniane ma anche su delle storie diciamo più circostanziate come quella di Marduk e di Fox News e ci siamo, ne avevamo parlato tempo fa e è arrivato il processo del secolo alla Fox e poi si è chiuso con una con una multa, con un accordo salatissimo e quindi non solo con persone e voci che ho raccolto in prima persona non solo con mie fonti ma anche con personaggi molto lontani dalle mie trasferte. Ogni volta si riesce a ottenere diciamo uno strato di profondità che io personalmente se non avessi la possibilità di dividere in puntate un racconto raramente hai spazio in un dibattito televisivo e non ne parliamo ma anche in un articolo di giornale di scavare così. Proprio su questo diciamo tu accennavi già diciamo a questo tema un po' delle differenze che ci sono tra i diversi, tra l'altro molto interessante appunto questa cosa appunto che tu hai la possibilità anche di frequentare un po' tutti se vogliamo i principali diversi canali dell'informazione oggi quindi appunto la carta stampata, i podcast, la televisione. Ecco tu accennavi già a questo elemento appunto della necessità di reiniziare da capo quando si scrive un articolo ma diciamo oltre a questo diciamo anche diciamo in termini non so di stile, di relazione col pubblico, tra questi tre diversi media quali sono le principali differenze, elementi che ti verrebbe da sottolineare? Appunto per me la più, cioè per il tipo di rapporto che c'è con chi ascolta stories io so se sono in Ucraina da cinque giorni so che posso dare per scontato nella quinta puntata quello che ho detto nella quarta e nella terza. Su un giornale non oserei mai dare per scontato che è stato letto l'articolo del giorno prima o di due giorni prima e quindi appunto non ripetere le questioni basilari necessarie a capire poi lo svolgimento del discorso in testa al pezzo. La televisione è una lotta, è una battaglia più che un momento di racconto di una storia, spesso diciamo le televisioni, i programmi del dibattito sono una lotta, è una battaglia per cui bisogna stare su concetti generali ma con frasi precise e puntuali, brevi perché il tempo è poco ma è completamente un altro strumento se ci si va da ospiti un altro discorso e avere la possibilità di realizzare un proprio reportage con il linguaggio video invece che con il linguaggio scritto, con il linguaggio audio, che è un lavoro che ho fatto con Vice quando ero 19 anni, è stato il mio primo lavoro ma che non frequento più da alcuni anni. il linguaggio tra il podcast e il giornale che per me sono importantissimi e complementari anche nel lavoro che faccio sia da qui che dal campo quando sono fuori, però la differenza più importante che vedo è proprio questo discorso dell'intimità, del potersi continuamente rivolgere a chi ascolta nel podcast come ci stiamo parlando io e te adesso, anche chiamandoli in causa in prima persona. No, quello che hai detto è molto interessante, diciamo anche rispetto al rapporto che si crea col pubblico tra l'altro mi chiedevo se in un qualche modo ci sia all'interno di questo una specifica attenzione da parte delle nuove generazioni, cioè se in un qualche modo in questo interesse per il poter se anche per questa domanda di approfondimento nei confronti della politica internazionale anche con le caratteristiche che porta con sé, con la necessità comunque di un formato che ti permetta di seguire via via l'evoluzione di una vicenda c'è diciamo dal tuo osservatorio anche questa caratteristica oppure è una cosa trasversale? Io penso che gli esteri interessino molto ai giovani nel senso che hanno un approccio all'informazione ai giovani, sono poi giovani fino ai 40 anni, però diciamo quelli che non sono abituati a comprare il giornale di carta tutti i giorni e affro un'altra parentesi, neanche gli adulti però lo sono nel senso che è una divisione che esiste poco, ma le persone della mia generazione e anche più grandi e anche più piccole non hanno un'educazione all'informazione che è prevalentemente la cronaca politica secondo me, cioè c'è un qualcosa su cui i giornali tradizionali puntano per molte pagine all'inizio di ogni numero che esce in edicola, che non è quello che attrae di più e per tanto tempo c'è stata la concezione che invece rispetto a il racconto quotidiano della politica della cronaca parlamentare, degli screzi anche tra partiti e tra leader, gli esteri interessassero meno, quindi vanno un po' in fondo o parecchio in fondo i trentenni, i ventenni non hanno particolare interesse per quel genere di informazioni, gliene bastano meno su quegli argomenti e ce ne hanno di più sugli esteri e non solo sugli esteri ma anche sugli esteri. I podcast sono uno strumento che è partito soprattutto con un ascolto che va tra i 20 e i 40, con degli ascoltatori intendo che vanno tra i 20 e i 40, che si è già esteso verso età più piccole e più grandi perché poi è semplicissimo, cioè il linguaggio audio e quello della radio è il mezzo più antico, cioè è un mezzo parecchio antico, i radio dranni, i podcaster hanno rubato qualcosa che esisteva da molto tempo aggiungendoci un loro stile, ma è talmente semplice la fruizione di un podcast anche rispetto a quello di una piattaforma audiovisiva, cioè tra mettere un podcast e saper usare Netflix, non so, già cambia, quindi si è allargato molto rapidamente il pubblico, come sempre gli strumenti digitali iniziano ad utilizzarli giovani, ma Facebook hanno iniziato i giovani, ma adesso ci sono molte più persone adulte che giovani su Facebook e i siti dell'informazione online sono frequentati più da adulti, l'informazione tradizionale o meno tradizionale online sono frequentate dagli adulti, dai più grandi tanto quanto dai giovani, quindi sono differenze che secondo me si vedono all'inizio e si assottiliano molto rapidamente. Grazie, no, tra l'altro appunto questo, tutte queste riflessioni penso siano molto significative all'interno di un contesto dell'informazione che si va ridefinendo proprio a partire anche proprio dall'osmosi tra queste diverse forme di informazione, perché poi ci sono una serie di rimandi reciproci, comunque la televisione continua ad esserci, però assume anche una circolazione diversa all'interno dei social media, i giornali continuano ad essere comunque in un qualche modo anche alla base per certi aspetti della circolazione e all'interno di questo i podcast creano anche nuove possibilità e quindi diciamo è molto interessante anche in chiave di sperimentazione il tipo di… e questo diciamo è anche parte di una riflessione che probabilmente si può fare su come si può anche rimediare ai limiti, ai difetti che ci sono a un'informazione che magari è troppo sugli stimoli del momento, che non permette diciamo di assumere una visione più critica. Ecco, io ringrazio davvero, ti ringrazio, ringrazioci a Sala per essere stata con noi oggi per averci aiutato diciamo a riflettere su comunque su temi su cui come Pandora Rivista ragioniamo molto come sanno i nostri lettori e ringrazio tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata dei dialoghi di Pandora Rivista. Grazie per aver guardato questo video, se volete approfondire questo ed altri temi oltre ad iscrivervi al canale potete abbonarvi alla versione cartacea di Pandora Rivista. Tra uscite l'anno con un argomento diverso ogni volta per capire più in profondità le grandi trasformazioni del nostro tema.